Fischia il direttore di gara, inizia Darci Calliz 1-2, non si chiude, Checoni Trasposta con la suola, Checoni, bravantare da Lofoco, il tiro, la respinta del portiere Calcio d'angolo dalla destra per il lizza, occasione, colpo di testa, salvataggio sulla linea E adesso riparte il Dacica, davanti alla portiere, la risposta, botta e risposta Recupera la palla e poi c'è il tiro, a lato, occasione per i rossi Costabile, perde il pallone, la grande risposta di Maroncelli Poi il tiro, improvviso, per il vantaggio, 1-0 Train barriera disposti da Ionita, calcio di punizione per il lizza, andrà Checoni Scavetto dentro, per il pareggio di Checoni, 1-1 Arriva il triplice, fischio, 1-1 e saranno quindi calci di rigore Passarelli con il destro la rete, vincono il lizza, ai rigori Passarelli con il destro la rete, avanti alla portiere, avanti alla portiere, avanti alla portiere